E la Pumas ancora a Viareggio a vincere il titolo nazionale Under-19 battendo in finale il Valdagno ai tiri di rigore con il punteggio di 3-2. Una finale che si è giocata di fronte a un buon pubblico circa 800, gli spettatori alla pala Ligo, gremitissimo, un match piuttosto equilibrato dove ad esaltarsi sono stati due portieri, quello della nazionale Under-19 il Viareggino Thomas Mechini e il 14enne portiere figlio d'arte Giovanni Cunegatti che è riuscito a tenere a galla i suoi per buona parte della gara, poi alla fine sono arrivati al risultato finale i ragazzi allenati da Mirko Bertolucci che si sono quindi aggiudicati un titolo sicuramente importante, è il secondo scudetto consecutivo in Under-19 conquistato da Mirko Bertolucci dopo quello con il Sarzana un anno fa, mentre è il primo per la giovane società Via Regina che ha conquistato qualche mese fa a Trissino la Coppa Italia di Serie B, una formazione che vede anche ex proprio del CGC come Mirko Bertolucci e diversi altri giocatori, sono quindi tre gli scudetti conquistati dalla Toscana, uno per il Veneto ed uno per la Liguria, solo un anno è successo di tre scudetti toscani nel 2017-18, mentre rimane imbattuto il record di quattro scudetti conquistati dal Veneto nel 2012-2013.